Un piccolo tesoro, nascosto in mezzo a lettere, foto, riviste e manoscritti del maestro, che va ad aggiungersi allo straordinario patrimonio puciniano. È una scoperta eccezionale, quella fatta nella Villa Museo in Riva al Lago. Una quarantina di manoscritti musicali inediti, composti da Giacomo Puccini. Tre documenti rinvenuti spiccano 12 brani per organo, 15 pezzi per pianoforte, risalenti, si ipotizza, al periodo di apprendistato e una decina di contrapunti a tre e quattro parti. Ad annunciare la bella sorpresa è la fondazione Simonetta Puccini, fondata nel 2005 dalla nipote del maestro, scomparsa lo scorso dicembre, oggi proprietaria della Villa sul Belvedere di Torre del Lago. Significa molto, anche perché Puccini, insieme a Verdi e a pochi altri musicisti, è sempre rappresentato ed è amato in tutto il mondo. Le novità, anche se sono novità giovanili o cose, non certo un'opera intera, ma pezzi d'organo come quelli che sono stati scoperti, possono essere interessanti per la sua storia musicale, soprattutto quella giovanile che è meno conosciuta di quella operistica. Le preziose melodie, attualmente oggetto di studio, sono state rinvenute tra oltre 3.000 documenti conservati nell'archivio della Villa. Autori della scoperta, il professor Virgilio Bernardoni, presidente dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, e la professoressa Gabriella Biagi Ravenni, membro della commissione scientifica e presidente del centro studi Puccini. Si è arrivati, grazie prima di tutto, al lavoro della sovrintendenza regionale archivistica che ha inventariato tutto l'archivio, e poi allo studio, all'ingresso che ci è stato consentito e allo studio dei pezzi che abbiamo visto. E quindi ci siamo resi conto che erano inediti, brani autografi, inediti di Puccini, soprattutto del periodo giovanile. Ma non disperiamo che andando avanti nello scavo ci possa essere ancora dell'altro.